Le vie più difficili vengono percorse da soli, la delusione, la perdita, il sacrificio sono soli. Persino il morto che risponde a ogni richiamo e che non si nega a nessuna richiesta non ci soccorre e osserva se noi non cediamo. Le mani dei vivi che si tendono senza raggiungerci sono come i rami degli alberi d'inverno tutti gli uccelli tacciono, si sente solo il proprio passo e il passo che il piede non ha ancora fatto, ma che farà? Fermarsi e voltarsi non serve, si deve andare. Prendi in mano una candela come nelle catacombe, la piccola luce respira appena e tuttavia quando hai camminato a lungo il miracolo non tarda perché il miracolo sempre accade e perché senza grazia non possiamo vivere. La candela brilla per il respiro libero del giorno, tu la spegni sorridendo quando appari nel sole e tra i giardini che fioriscono la città è davanti a te e nella tua casa la tavola è apparecchiata di bianco e i vivi che perderemo e i morti che non possiamo perdere spezzano per te il pane e ti porgono il vino e tu senti di nuovo la loro voce vicinissima al tuo cuore.